Vengono da Pistoia e dai centri vicini ma anche da molto lontano i pellegrini che specialmente nel mese di maggio arrivano al santuario di Valdibrana. Tanti giungono a piedi partendo anche da chilometri e chilometri di distanza spinti dalla devozione per la Madonna e dall'amore per un luogo che ogni anno riesce ad attirare a sé migliaia di persone. Sono una devota della Madonna di Valdibrana e tutti gli anni veniamo qua a fare un pellegrinaggio a piedi veniamo a piedi per chiedere sempre un aiuto per la famiglia e per i nostri cari. Credo che oggi come oggi credere in qualcosa, avere dei punti di riferimento è proprio una cosa principale. Tutti gli anni veniamo con le mie amiche, si fa questa passeggiata insieme e poi si dice una preghiera per un bisogno proprio di spiritualità in questo momento così sempre difficile. Mi piace rendere omaggio alla Madonna in questo mese che è dedicato a lei. Andiamo tante volte in altri santuari e noi ne abbiamo uno bellissimo qui a Pistoia e tante volte ci dimentichiamo di questo. Il santuario di Valdibrana è infatti un posto speciale che colpisce come ci racconta Don Cesare Tognelli che ne è parroco, soprattutto per la sua semplicità. Qui siamo davvero di fronte alla realtà quotidiana che viene costantemente messa davanti a noi dalla semplicità, dalla direi quasi povertà, umiltà di Maria. Le radici della devozione a Valdibrana risagonano alla metà del 1300 quando un affresco dimenticato della Madonna venne scoperto come racconta la tradizione dopo l'apparizione di Maria ad una pastorella. La raffigurazione che noi abbiamo qui a Valdibrana è certamente una raffigurazione di profonda umiltà da parte di Maria. Se noi guardiamo l'immagine è proprio l'immagine di una donna del nostro popolo. L'immagine che abbiamo è inserita in un paesaggio quanto mai semplice, quanto mai spoglio, quanto mai povero. E Maria si presenta in questo paesaggio come colei che ci viene incontro portandoci e presentandoci il bambino.